Otto studentesse del corso di laurea ravennata in conservazione e restauro dei beni culturali hanno lavorato ad Apollonia in Albania e a Gortina, a Creta, al restauro di importanti decorazioni musive in due contesti archeologici. Il parco di Apollonia, dove sorgono le rovine di un'antica colonia greca, e la basilica di Mitropolis, uno degli edifici di culto più imponenti dell'età proto-bizantina. Si tratta di due eccezionali esperienze internazionali di formazione per il restauro di mosaici, rese possibili grazie a Fondazione Flaminia che hanno portato le studentesse a lavorare direttamente sul campo con professionisti di vari settori, mettendo in pratica le competenze acquisite durante il percorso di studi ravennata. Sicuramente questa esperienza internazionale rende il corso visibile anche all'estero per le sue qualità, la capacità anche delle studentesse di adattarsi a condizioni di contesti differenti da quelle diciamo del protetto ambito di studio che si ritrovano qui nelle attività in loco. Fare un'esperienza internazionale è sicuramente un arricchimento per gli studenti, perché si trovano ad affrontare condizioni, come dicevo, differenti, ma soprattutto perché l'esperienza italiana viene portata e a confronto con esperienze internazionali. Le studentesse lavorano e imparano, ma intanto trasferiscono la loro competenza anche ad esperti che probabilmente hanno una formazione culturale e un approccio al restauro differente. Questo significa che lo scambio di esperienze sia nel dare che nel ricevere e nel rendersi conto effettivamente di quello che possono essere anche le prospettive internazionali di occupazione, perché in molti paesi che hanno una tradizione straordinaria dal punto di vista culturale e del patrimonio che hanno, la formazione dei restauratori e l'attività dei restauratori, è in fase di implementazione, sviluppo e di grandi interessi anche proprio dal punto di vista lavorativo. Fin dall'inizio la Fondazione Flaminia ha deciso di sostenere questo corso perché è caratterizzante dell'insediamento universitario Ravennate. Nel corso degli anni, dopo che è partita l'esperienza e si è consolidata, la nostra intenzione è stata di destirare le risorse ad attività finalizzate. La giornata odierna serve appunto per restituire il senso di questa attività che significa lavorare sul campo, permette alle studentesse e studenti di lavorare sul campo e di avviare in un'ottica di internazionalizzazione una serie di relazioni che rendano sempre più visibile questo corso di Lara che è un'eccellenza per il nostro territorio. Quante altre esperienze come queste in futuro ci potranno essere? Noi ci auguriamo che saranno tante, ogni anno insieme alla professore Servandini ci incontriamo, definiamo un programma di massima e poi realizziamo queste iniziative. Devo dire che la realtà albanese è rimasta molto impressionata dalla capacità del nostro corso di Lara di essere immediatamente operativo e soprattutto c'è anche l'elemento di collaborazione con le maestranze e con le competenze presenti in loco, quindi si costruiscono dei laboratori interdisciplinari che creano legami e opportunità di collaborare anche su progetti europei. Ricordo che dal mese di febbraio saremo in Albania insieme al Dipartimento di Beni Culturali per l'avvio di un progetto proprio sul tema del restauro e dello sviluppo delle competenze sul tema del restauro. Bianca, qual è stato il lavoro che avete fatto appunto sul campo in Albania? In Albania abbiamo lavorato su un mosaico distaccato che verteva in pessime condizioni inizialmente e abbiamo lavorato con dei ragazzi di nazionalità albanese, degli specialisti nel settore dei beni culturali. Con loro abbiamo fatto appunto un workshop, cioè si è trattato di un lavoro di restauro su questo mosaico che era stato distaccato ed è stato ricollocato su un nuovo supporto in areo LAM. Ci siamo quindi occupate della pulitura del mosaico, del ricollocamento di tessere e abbiamo anche direttamente lavorato sul nuovo supporto tagliandolo e unendolo nelle varie sezioni. Io sono una studentessa al quinto anno di restauro, in conservazione e restauro dei beni culturali di Ravenna e questo è l'anno della nostra tesi e ci è sembrata un'occasione molto importante e a livello formativo molto interessante perché appunto a livello internazionale sicuramente è un'esperienza che lascia il segno perché non eravamo mai andate all'estero a lavorare siamo sempre rimaste comunque a Ravenna o in Emilia Romagna, sì ci è capitato di spostarci in altre regioni ma sicuramente avere a che fare con degli specialisti del settore di un'altra nazionalità è sicuramente un'esperienza molto interessante, nuova sicuramente. In Grecia avete lavorato in una delle chiese principali del paese, che tipo di lavoro avete fatto? Dunque abbiamo lavorato al pavimento musivo dell'antica basilica tardo-antica di Mitropolis, una basilica molto importante in quanto è anche una delle più grandi su tutto il Mediterraneo e il nostro lavoro è consistito nelle operazioni preliminari alla stesura di un progetto di restauro che poi andrà a essere realizzato nei prossimi anni, quindi analisi, documentazione grafica, fotografica tutto ciò che appunto è utile per lo studio del mosaico. Un mosaico molto grande, si parla di circa 50 metri di lunghezza, quindi che occupa tutta la navata centrale della basilica. Abbiamo lavorato insieme ad architetti e ad archeologi, quindi è stata comunque un'esperienza molto interessante in quanto si è andata a verificare una sinergia tra più professionalità che hanno lavorato insieme per appunto mettere in atto un progetto. Insieme ovviamente all'Università di Bologna con la professoressa Isabella Baldini e all'Euforia di Eraclio, sede di staccata di Atene, quindi con anche professionalità ovviamente del campo, insomma, in Grecia. Che tipo di esperienza è stata per voi studentesi? Questa è stata un'esperienza veramente molto importante per noi che siamo prossimi alla laurea perché comunque è un'esperienza all'estero, è un'esperienza in una nuova realtà, in una nuova cultura comunque, con nuove professionalità, archeologi, architetti e quindi ovviamente è stata un'occasione per confrontarci anche per capire il lavoro degli archeologi per farci conoscere noi come restauratori, che è molto importante soprattutto adesso trovare una sinergia tra archeologi e restauratori perché lavorano comunque alla stessa cosa ma si occupano di cose diverse, quindi è molto importante confrontarci e questo l'abbiamo capito proprio con questa esperienza, dato che comunque noi facciamo molti esami di archeologia però non abbiamo mai avuto veramente a che fare con uno scavo, comunque un ambiente di lavoro che coinvolga così tante professionalità. Tra l'altro c'era anche un antropologo, quindi è stato proprio un ambiente molto ricco culturalmente e l'esperienza di per sé è stata molto faticosa ma molto importante perché comunque le esperienze all'estero adesso nel 2019 sono fondamentali per il lavoro che comunque in Italia scarseggia e si spera anche però di poter arricchire il nostro paese di anche cose dal resto dell'Europa e del mondo.